Ce ne stanno due là, c'è una villa abbandonata in un casolare di Roccato. Qua, qua, siamo qua. Mamma, non mi piace questa sciolta. Ci fai un figlio, ci fai un figlio. Grazie di tutto per avermi detto. Grazie. Ma bisogna capire dove iniziare, qua è il problema. Non è che abbiamo andato dalla parte giusta. E c'è stato quel signore che ci ha indirizzato, che c'è da tutti, con il libro per poter iniziare. Bravo!